Il Messico, riconosciuto come la culla della cultura del cacao e la patria del cioccolato grazie alle civiltà degli Olmechi, dei Maya, degli Zocchi e a seguire degli Aztechi, sarà con Tabasco il paese ospite d'onore della prossima edizione di Eurociocolat in programma dal 14 al 23 ottobre 2022. Grazie infatti ad un recente accordo sottoscritto con il governo dello Stato di Tabasco è stato attivato un prezioso confronto tra uno dei territori più importanti per la produzione del cacao e l'Italia con Eurociocolat che dedicherà al Messico lo spazio Tree to Bar, ospitato all'interno delle Padiglione 7 di Umbria Fiere. Oltre 400 metri quadrati di allestimenti dedicati alla storia, alla geografia, alle bellezze e ai protagonisti della coltivazione e trasformazione del cacao che appartengono alla regione di Tabasco dove il cibo degli dei sta diventando sempre più anche un ottimo veicolo di marketing turistico grazie all'istituzione della ruta del cacao e allo sviluppo delle festival del cioccolate Tabasco che nel novembre 2022 celebrerà la sua undicesima edizione. Durante Eurociocolat sarà presente una numerosa delegazione della regione di Tabasco e della sua capitale, la città di Villermosa, composta sia da rappresentanti delle istituzioni che da imprenditori in rappresentanza del mondo della produzione e trasformazione di cacao. Durante la giornata del 21 ottobre la delegazione messicana sarà quindi ricevuta dalla presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, e dalla sindaco di Perugia, Andrea Romizzi.